Buonasera, oggi abbiamo con noi il professor Angelo Maria Petroni dell'Università di Roma la Sapienza che è anche torinese o lo possiamo considerare tale perché dal 1980 al 1997 ha lavorato al centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi e ogni tanto torna in Piemonte e nella nostra città. Per esempio questa sera sarà a Cuneo per le celebrazioni in onore di Luigi Einaudi. Petroni ha anche ricoperto importanti incarichi, ricordo quello di direttore della Scuola Superiore della pubblica amministrazione e per molti anni di consigliere di amministrazione della radiotelevisione italiana. Ma questa sera lo vogliamo sentire soprattutto nella sua funzione di segretario generale dell'ASPEN Institute Italia. L'ASPEN è un istituto culturale nato negli Stati Uniti d'America nel 1950 presente oltre che in Italia in altri importanti stati europei come la Francia, la Germania, la Spagna. Il compito istituzionale dell'ASPEN è la formazione della leadership. Ovviamente per l'ASPEN Italia la formazione della leadership in Italia sotto il profilo dell'aggiornamento civile, culturale, economico dei gruppi dirigenti come pure la formazione della nuova dirigenza. Un compito importante è che tocca un argomento di grande interesse per il nostro Paese e per il processo di modernizzazione al quale si deve sottoporre per affrontare il confronto sempre più incalzante che abbiamo con i Paesi più progrediti del nostro. Professor Petroni, cosa fa l'ASPEN per la formazione della nuova dirigenza in Italia? L'ASPEN cerca di fare quello che viene fatto in molti Paesi di questo mondo che è quello di capire quali sono i giovani che meritano di dirigere questo Paese in futuro, cercare di individuarli quando sono giovani nel mondo delle università, nel mondo anche delle aziende, nel mondo delle professioni e poi fare loro dei programmi di formazione specifica su cosa significa esercitare la leadership nel mondo contemporaneo. Un mondo che è globalizzato innanzitutto, quindi ASPEN ha una forte connotazione internazionale e globale alla formazione, in un mondo che è dominato dall'economia ma anche dai valori e un mondo che dovrebbe sempre più essere dominato dai valori perché senza valori solidi anche l'aspetto economico perde di significato come stiamo vedendo di questi tempi. Paesi dominati dai processi democratici, quindi esercitare la leadership in un sistema democratico, il che significa evidentemente esercitarla secondo la volontà delle maggioranze, secondo i principi della democrazia. Noi abbiamo questi giovani, sono circa un centinaio, li teniamo con noi cinque anni, li facciamo loro dei programmi di formazione, li facciamo incontrare con i più anziani dell'ASPEN, con i soci dell'ASPEN che sono eminenti personalità del mondo dell'economia, dell'università, delle professioni, della pubblica amministrazione, delle istituzioni, in modo che ci sia una trasmissione di esperienza dalle generazioni dirigenti più anziane a quelle più giovani. Ricordare loro che la leadership è qualcosa che non è basato sulla forza ma sulla persuasione, è basato sulla capacità di convincere gli altri a fare ciò che va fatto e ciò che è bene per sé e per il proprio paese e più in generale direi per tutto il mondo, fin dove è possibile. Quindi questa parte della nostra attività è quella di fare una leadership che convince, cioè guida. I paesi hanno bisogno di essere guidati, hanno bisogno di essere guidati a risolvere i problemi che si presentano ogni giorno, ma vanno guidati con la persuasione nel rispetto dei principi della democrazia e questo è banale, ma soprattutto nel rispetto dei valori. Il motto di ASPEN ovunque nel mondo, quindi anche in Italia è Timeless Values Enlightened Leadership, quindi valori senza tempo, valori eterni si potrebbe dire in un linguaggio un po' esagerato, forse tradotto quindi valori senza tempo e leadership illuminata, cioè una leadership che non guarda solo al proprio tornaconto ma deve guardare l'interesse al bene comune. Questo oggi è un problema piuttosto serio in molti paesi occidentali, un po' più serio forse in Italia. Come vede lei la situazione della leadership in Italia, visto che ha proprio, uso le sue parole, detto il problema è un po' più serio in Italia. Temmo che la situazione della leadership in Italia non sia particolarmente favorevole, senza cedere a pessimismi esagerati come leggiamo molte volte sui quotidiani o altro. È vero se compariamo l'Italia ad altri paesi, ovviamente paesi migliori di noi e di dimensioni sufficientemente paragonabili le nostre, penso alla Germania o alla Francia o all'Inghilterra, gli Stati Uniti sono un caso a parte perché le dimensioni sono molto diverse, indubbiamente c'è un problema di leadership o di classe dirigente. Quando ci poniamo la domanda perché le grandi opere pubbliche non vengono fatte, faccio solo un esempio molto concreto, noi pensiamo spesso che il problema sia che le leggi non sono fatte bene, è vero, pensiamo che spesso non ci sono abbastanza soldi, è vero anche questo, ma spesso il problema è di classe dirigente, cioè coloro che dovrebbero prendersi la responsabilità di mettere in atto quelle che sono spesso decisioni poi del Parlamento e dei Governi, in realtà non ne hanno la capacità, spesso non ne hanno l'interesse. Lo vediamo nel mondo delle università, lo vediamo nel mondo della cultura, lo vediamo nel mondo della pubblica amministrazione di cui mi sono occupato per tanti anni, cioè globalmente il Paese stenta ad essere diretto nelle direzioni che pure l'elettorato sceglie. C'è un problema di leadership in Italia sicuramente, quindi dobbiamo fare qualcosa. In Aspen noi abbiamo l'idea che per far qualcosa bisogna partire dalle competenze tecniche, ma anche e soprattutto dai valori. Se guardiamo la storia di questo Paese, sono in questa città che adoro, Torino, insomma basta andare in giro e uno capisce che ci sono stati periodi di grande leadership in questa città, la Torino del 700, poi basta vedere la struttura della Torino industriale, l'Italia è stata creata da una classe dirigente a metà dell'Ottocento, formidabile, che aveva un'idea del futuro, aveva un'idea sui valori, perché spesso, per fortuna siamo in sistema pluralista, non tutti hanno esattamente le stesse visioni, poi alla fine si trova una sintesi, una volta trovata una sintesi si va avanti, si costruiscono ponti, strade, canali, università, ospedali. Oggi sembra che il problema in Italia, al di là del fatto che mancano i soldi, che poi quando mancano i soldi non è mai un problema economico, è sempre un problema morale, diceva Luigi Einaudi, quindi i soldi oggi sono sicuramente più soldi di quanti avesse Cavour, eppure all'epoca si facevano i grandi canali, i grandi feori, oggi non si fa più nulla. Abbiamo l'idea che questo Paese ha avuto negli anni delle leadership forti, delle leadership democratiche, e che oggi soffre di un problema di leadership. Condivido queste sue valutazioni, lei ha ricordato il Piemonte del Settecento, dell'Ottocento, degli uomini che hanno fatto l'Unità d'Italia. A mio giudizio erano uomini che avevano la cultura del consuntivo, si giudicavano la gente per quel che realizzava. Ecco, oggi mi pare che domini la cultura della progettazione, del bisogno a fare, a cui poi non segue mai, una valutazione del risultato. Nei lunghi anni che ho trascorso, molti, ormai decenni sono trascorsi, a fare consigliere comunale nella nostra città, mi ricordo che il dibattito più acceso avveniva sul bilancio preventivo del comune. I bilanci consuntivi passavano del tutto inosservati. Credo che questo costume si sia diffuso e sia oggi imperante. Ecco, lei ha accennato, fra l'altro, nelle sue considerazioni, al contributo che l'Università dovrebbe o potrebbe dare alla formazione dei gruppi dirigenti. Ci vuole dire qualche cosa al riguardo? Sì, l'Università italiana ha delle grandi punte di eccellenza. Questo va detto a difesa dei poveri professori, in parte, ma sulla base dei risultati. Si dice spesso che in Italia c'è la fuga dei cervelli. Siccome il cervello di un italiano è come quello di un tunisino, di un giugoslavo, di uno svedese o di un francese, ci sarà una fuga di competenza. Cioè, quello che succede, ci sono dei giovani, si formano in Italia, non trovano lavoro in Italia, specialmente nelle fasce alte, vanno negli Stati Uniti dove immediatamente fanno fortuna, in Inghilterra, in Francia. Ma se qualcuno si laurea all'Università di Torino, all'Università di Bologna o all'Università di Roma, va ad Harvard, puoi lavorare o va alla City o va a Parigi e trova immediatamente un'ottima posizione, si afferma, significa che aveva avuto una buona preparazione. Non è vero che le nostre università sono lo sfascio. Quindi, posto come premessa che non mi aggiungo al coro di chi dice lo sfascio dell'Università italiana, perché produciamo delle ottime vette, è vero che l'Università italiana stenta nel dare ai giovani il senso della missione del futuro. Quello che fanno le università tedesche, quello che fanno alcune università francese, in particolare le Grosse Ecole, tipo l'Ecole Normale, l'ENA o altro, quello che fanno in Inghilterra, università come Oxford, Cambridge o la London School of Economics, quello che fanno in America, università come Harvard o Yale, purtroppo in Italia sembra che le università non riescano più a fare, che non è tanto dare delle competenze tecniche, le diamo ancora di ottime a quelli bravi, forse abbiamo un problema di media in alcune parti. Stentiamo a dare nell'Università ai giovani il senso del proprio futuro e la responsabilità nei confronti del Paese. Lei diceva prima giustamente che in Italia tutti si occupano del bilancio preventivo, non di quello consuntivo. Per usare un'espressione un po' sofisticata ma molto comprensibile, in Italia ci occupiamo poco dell'etica della responsabilità, tutta l'etica dell'intenzione, avere una buona intenzione e poi bisogna mettere le intenzioni, sono importanti ma risultati di più. Soprattutto bisogna avere l'idea che chi ha la fortuna di andare all'università, di avere un'istruzione superiore, che in gran parte poi è pagata dallo Stato, perché lo studente contribuisce per una minima frazione del costo della sua formazione, deve occuparsi innanzitutto per carità di se stesso, della propria famiglia, ma anche del proprio Paese, cioè deve svolgere bene il proprio lavoro, perché svolgere bene il proprio lavoro significa essere responsabile nei confronti del Paese. Questo senso purtroppo, che una volta era evidente che chi andava all'università erano delle elite, evidentemente questa era più facile, che andava all'università e diventava medico, diventava avvocato, diventava ingegnere, sapeva che avrebbe svolto qualcosa anche per la comunità, ne ero orgogliosa. Oggi invece gli studenti hanno l'idea, si laureano, speriamo di trovare un lavoro e di cavarmela, ma la dimensione pubblica, la dimensione altamente politica o politica in senso alto, è venuta fortemente a mancare e questo è un male, non è colpa degli studenti, non è l'ultima cosa che vorrei dire, è chiaro che anche difficili condizioni di mercato del lavoro creano le condizioni perché questo non avvenga, ma purtroppo questo è stato vero negli ultimi 40 anni, anche quando le condizioni del mercato del lavoro erano buone e chi si laureava trovava piuttosto facilmente un lavoro. Le università in questo sono insufficienti nel fare quello che fanno le altre università dei paesi a cui ci dobbiamo necessariamente e positivamente confrontare, dare non solo la formazione tecnica, ma dare il senso della leadership allo studente, al laureando. Tu vieni fuori e non sei solo il dottor Rossi, sei uno dei leader della società, devi esercitarla, migliorare l'ambiente sociale intorno a te, contribuire al benessere comune e dobbiamo fare di più su questo. È vero quello che lei dice, anche io penso che quel principio costituzionale secondo cui i capaci e meritevoli hanno diritto di salire ai gradi più alti degli studi non vuol dire che una volta che sono entrati nei gradi più alti degli studi hanno il diritto di restarci. Cioè c'è il problema di sensibilizzazione degli studenti alla rapidità con la quale dovrebbero terminare i loro studi nell'arco di tempo che è previsto dall'ordinamento degli studi nei quali sono entrati. Purtroppo in Italia esiste un meccanismo completamente diverso e anomalo rispetto a quello del resto dell'Europa e non solo dell'Europa, perché basta continuare a pagare le tasse che si continua a essere iscritti all'università per tutti gli anni che si vuole. Questo non crea negli studenti la consapevolezza della necessità del risultato e poi via via questo processo mentale può essere trasferito nelle attività alle quali si dedicheranno poi nel corso della loro vita e quindi da questo punto di vista forse occorrerebbe che l'università modificasse i propri ordinamenti. Il professor Petroli è stato anche consigliere di amministrazione della RAI. Ecco, forse è il caso di rivolgere un attimo l'attenzione ai media. I media sono parte della nostra leadership. Come a suo giudizio contribuiscono alla modernizzazione del Paese? Peggio di quanto faccia l'università, se posso essere drastico. Si dice spesso che i media sono il quarto potere ed è vero, assolutamente. Oggi ho sentito dire una volta da un politico italiano che un quarto d'ora di televisione valeva più di tutta l'università italiana per prendere voti che probabilmente è anche vero. Poi cosa ci fai non si sa, ma insomma quindi il potere di media è immenso. I direttori dei giornali ma anche i semplici giornalisti. In Italia ci sono circa 9 mila giornalisti per dare un'idea iscritta all'ordine professionale. Sono pochi. Globalmente coloro che fanno le informazioni in Italia sono qualche migliaio e influenzano 60 milioni di persone. Ovviamente il compito dei media è dare un'informazione quanto più possibile corretta, esprimere punti di vista quanto più possibili plurali, quanto più possibili ben fondati, ma come tutti quelli che vivono in un Paese hanno anche delle responsabilità sul progresso civile, morale e materiale di questo Paese, come ce l'hanno i professori universitari, ce l'hanno i dirigenti dello Stato, delle regioni e da questo punto di vista temo che non facciano un gran buon lavoro. Io sono stato quasi dieci anni consigliere di amministrazione della RAI, il più lungo nella storia di questa azienda e la RAI dispone circa 1700 giornalisti, alcuni di quali sono eccezionali, ma vediamo che la classe giornalistica in RAI, che comunque è una selezione della migliore evidentemente, ha delle debolezze che sono purtroppo tipiche della maggior parte della classe dirigente di questo Paese, conosce poco il mondo estero ad esempio, è molto poco internazionalizzata, trovare dei giornalisti che sappiano bene l'inglese e magari un altro tedesco, un altro paio di lingue, è una cosa rarissima. Conosco poco l'economia, io in nove anni non sono riuscito a, nel più piccolo ruolo, a riuscire a far fare qualche buona trasmissione stabile di economia, perché non ci sono abbastanza giornalisti in RAI che conoscono l'economia, la buttano sempre in politica, finisce sempre si parla di politica, qualsiasi cosa, perché conoscono solo quella, è una classe, la classe dei giornalisti italiani tipicamente è ossessionata dalla politica, vede solo la politica, vede tutto in occhio politico, quindi qualsiasi, se si devono occupare di un'università, primo il rettore è di sinistra o di destra, ora se il rettore è di destra, i giornalisti di sinistra lo attaccano o viceversa, per cui non si riesce mai ad avere un punto di vista di tipo conoscitivo, autentico. Questo è il dramma dei nostri media, con molta eccezione, di nuovo, però sicuramente i nostri media soffrono uno di provincialismo, sono poco aperti rispetto al mondo, voi aprite qualsiasi telegiornale italiano, provate a vedere i servizi sul mondo, sono un riciclaggio di servizi fatti all'estero che vengono mandati e uno ci parla sopra in italiano, i corrispondenti italiani nel mondo sono pochissimi, quindi noi utilizziamo le notizie di altri giornali, di altre cose, l'economia che è uno dei punti fondamentali evidentemente di conoscenza, oggi come diceva Luigi Einaudi, permettetemi, voleva che venisse insegnata l'economia nei seminari ai preti, traendo spunto dalla famosa truffa che avvenne negli anni 50, dove un prete fu probabilmente incolpevole e una serie di preti strumento di un truffatore che raccoglieva soldi tipo Madoff, insomma su scala più piccola, quindi l'insegnamento dell'economia, capire l'economia oggi è un punto fondamentale per un cittadino normale, un buon padre di famiglia, capisca come investire i suoi soldi, come lavorare, molto difficilmente voi trovate nei media qualcosa che ti spiegano sempre lo spread che dice Obama, che dice la Merkel, insomma è sempre politica riciclata tranne qualche eccezione, quindi io temo che i media oggi non costituiscano un punto di forza del miglioramento della leadership italiana, anche loro hanno un problema serio che è un problema anche di scuole, le scuole di giornalismo in Italia sono poche, alcune sono anche eccellenti, ma sono poche rispetto alla necessità, per cui spesso si diventa giornalista in Italia con una carriera molto interna, molto fai da te, che andava bene quando il mondo era semplice, travi redazioni, imparavi, ma nel momento in cui quello che succede a chi vasso, dipende da quello che succede nella Corea del Sud, perché se si sviluppa nella Corea del Sud un settore tecnologico di un certo tipo, ti ritrovi disoccupati a chi vasso, non puoi più come una volta imparare il mestiere entrando in redazione, dopo aver fatto una laurea in scienza delle comunicazioni, dopo impari a leggere i libri di Umberto Eco e basta, insomma, e questo purtroppo è la situazione credo dei media, che è un problema serio di questo Paese, perché l'informazione è parte fondamentale del progresso e della leadership. La politica non è discussione sugli schieramenti, la politica è cultura, ed è quello che ci proponiamo nei limiti del nostro modesto campo di azione, in questa rubrica dicendo quel che normalmente non si dice. Non mi resta che ringraziare il professor Petroni per questa amabile conversazione che ci ha dedicato e di porgergli un cordiale saluto. Grazie a lei.